Quando hai fatto il mago, si vende la tua figlia... Oh, è lui che deve pagare il mago! Te lo fai apparire, te lo fai riapparire il giorno prima che vissano le scuole... No, il problema è che lei sta tutta... Sì, anche se stai conoscendo... Alla prossima! Grazie. Grazie. Grazie.